Buongiorno a tutti, bentrovati alle pillole di vino. Oggi siamo in Abruzzo, andiamo ad assaggiare un vino abruzzese fatto da un'azienda che ha diverse tenute, non soltanto in Abruzzo ma anche nelle Marche. Abbiamo quindi una denominazione importante che è il Montepulciano d'Abruzzo Colline Terramani, che è in qualche modo una sorta di sottozona, di zona privilegiata per questi vini. Il Montepulciano, in questo caso naturalmente il vitigno, è un vitigno molto intenso, molto molto ricco, che riesce a dare vini di buona impressione, di buona sostanza, di solito piuttosto generoso. Naturalmente in questa occasione andremo a provare l'interpretazione che ne dà un'azienda importante, un'azienda che negli ultimi anni ha naturalmente stupito per la rapidità con la quale si è fermata sui mercati. Frutto naturalmente anche dell'intenso lavoro di Angiolina Piotti-Velenosi, che è diventata in qualche modo la donna emblema della viticoltura italiana, il simbolo proprio di questa dinamicità, di questa voglia di arrivare sempre più in alto, sempre producendo ottimi vini. Quello di oggi, quindi, è un vino che si chiama Verso Sera, è un 2018, delle colline Terramane. Il vino di oggi è quindi caratterizzato innanzitutto dalla sua etichetta, molto caratteristica, perché come simbolo del lavoro dell'uomo c'è la cesoia, che è lo strumento principe del viticoltore, perché è appunto con la cesoia che si pota la vita e che le si dà quindi la strada, l'indicazione su come dovrà produrre le sue uve. E poi naturalmente c'è questa voglia di dare una forte impressione territoriale, quindi proprio sfruttando queste brezze che corrono dal mare verso la terra e dalla terra verso il mare nelle ore notturne. Il colore, come vedete, è scurissimo, molto intenso, proprio molto, molto, molto profondo e il profumo è intensissimo e si arriva subito una fortissima impressione fruttata, molto ricca, molto, molto densa. Un profumo di buccia proprio, molto, molto concentrato, quindi ciliegie, mirtilli, ribes, tutti frutti piccoli, appunto, ricchi di buccia che danno proprio un'impronta molto, molto solida, molto consistente già al profumo, sul quale si inserisce poi questo tocco lievemente animale che è tipico del vitigno montepulciano, questa nota di cuoio, questa nota di pelle e con questo briciolo di nota vegetal-selvatica, diciamo così, che gli dà molta, molta profondità, un tocco vegetale, ma di quelli ricchi che arriva proprio a dare una forte impressione di vivacità, di sostanza, di molto, molto, molta energia. Il gusto è certamente molto intenso, ancora fruttatissimo, molto, molto, molto maturo e ben sostenuto da un'acidità abbastanza moderata, ma da una tannicità piuttosto evidente, ben evidenziata, perché riesce proprio a dare un appiglio e una forza molto, molto forte al gusto e prolunga tantissimo la consistenza, proprio perché riesce a dare molta energia, molta struttura e quindi un sostegno molto, molto netto al vino. Non è un vino facile da bere, necessita proprio o da meditazione o da cibi molto, molto saporiti, quindi non è certamente un vino da bere così a cuor leggero, ma proprio quando si ha voglia di avere una forte impressione, un vino che in qualche modo impressiona fortemente le nostre papille gustative. Bene, signore Angiolini Fiotti Velenosi, questo è certamente un buon risultato e naturalmente ci auguriamo tutti che anche i nostri consumatori, i nostri appassionati vogliano prendere in considerazione questa bottiglia. Buona giornata a tutti e alla prossima occasione.